L'Officina della Cultura vi invita alla visione del piccolo principe e l'aviatore, regia di Amanda Sandrelli. E da questo momento anche prima direzione musicale. Vai, Samuele! Lo spettacolo dal vivo si sa è fermo, i teatri sono chiusi, ma non si arresta invece la stagione virtuale, le officine della cultura, io resto a casa per non perdere così l'abitudine del teatro, della musica e della necessità di stare insieme al momento solo virtualmente. Ed oggi finalmente vi racconto questa storia, lo so che quelli grandi non la capiranno mai, Ma è bello quando è notte stare zitto ad ascoltare, le stelle sono come dei suonagli da vibrare. Chissà cos'è successo sul pianeta, il nostro amico avrà ammazzato il fiore, speriamo abbia protetto la sua rosa. Ed abbia eliminato con gli arrusto di balbà. Ed abbia eliminato con gli arrusto di balbà.